Il sottosegretario Barraccio si è trovato in una condizione che è quella del rinvio a giudizio e quindi di un elemento già di giudizio da parte di un magistrato e per cui ha ritenuto che in questa condizione non fosse possibile continuare la sua attività di governo e noi rispettiamo ovviamente questa decisione che è dovuta, ripeto, ad una fase avanzata del suo iter processuale decisione che rispettiamo e moralmente ineccepibile.